Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sarà un appuntamento tecnico perché a fine luglio si è riunita l'Aula a tre giorni per discutere atti estremamente importanti che così riassumiamo. Parleremo del Via Libera al rendiconto generale per l'anno finanziario 2022, si è espresso la maggioranza del Consiglio con 23 voti a favori e 11 contrari. E poi si parla anche del Piano regionale di sviluppo 2021-2025 con il Via Libera a maggioranza durante la discussione in Aula. Sono stati votati molti emendamenti. E allora partiamo subito perché è stato approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli del Partito Democratico e Italia Viva, 11 voti contrari da Fratelli Italia, Lega, Gruppo Mistro Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. L'atto è stato illustrato in Aula dal Vice Presidente della Commissione di Controllo Andrea Pieroni. ha spiegato che l'esercizio del 2022 chiude con un saldo positivo di 533,95 milioni di euro. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia l'equilibrio della spesa. Per intenderci fra entrate ed uscite relative al 2022 c'è un avanzo di oltre mezzo miliardo di euro. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione. È un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo ma è dato dal fatto dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento perché appunto questo disavanzo di amministrazione per il 2022 ammonta a un miliardo e 400 milioni di euro, solo sette anni fa era più del doppio. Un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi è una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Il giudizio di parifica della Corte dei Conti ha denunciato quello che noi diciamo ormai da molto tempo e cioè il bilancio soprattutto nei rapporti con le ASLE, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente, è un bilancio quello della Regione molto rigido, siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità. E in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade, una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo non fosse altro perché sono reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario dove la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo di mutui che poi vengono a finanziare investimenti sul perimetro sanitario che però scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione, a un'organizzazione della parte sanitaria quindi del complesso del sistema che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. Sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della Regione Toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per i relli generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va aperto un focus particolare sul tema della sanità dove i conti portati avanti dalla Regione sono stati fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico della contabilità da parte della Corte dei Conti tant'è vero che la Regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte e in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate. Il piano regionale di sviluppo 2021-2025 è stato approvato dal Consiglio regionale con 23 voti a favore quello del PD Italia Viva, 15 contrari, Lega Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana. Domani, prima delle votazioni finali, sono stati discussi e votati molti emendamenti di cui alcuni approvati, sono stati approvanti 25 emendamenti della Lega che toccano i temi principali dalla sanità all'autonomia regionale, all'inclusione e la coesione sociale. Approvati 18 emendamenti di Fratelli d'Italia che ha puntato a inserire ogni provvedimento una valutazione di impatto generazionale sui giovani e tocca quindi questioni relative alla digitalizzazione la facilitazione digitale, l'esclusione di tecniche finalizzate alla produzione di cibi sintetici in Toscana. Voto positivo anche su tre emendamenti del Movimento 5 Stelle e su due emendamenti di Forza Italia. Il gruppo del PD ha presentato a sua volta 11 emendamenti, approvati tutti dall'Aula. Innanzitutto che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa è intesa come somma delle aree interne da un punto di vista normativo e delle aree montane ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno e questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni che possano valorizzare aree come il Casentino, la Lunigiana, la Garfagnana, la Maremma, la Valdichiana che possono avere un livello di omogeneità su progetti che va oltre quello che è il livello delle province o quello che è il livello di ambiti che vengono istituzionalmente richiamati. La Toscana diffusa significa servizi, significa infrastrutture, significa supporto ai comuni e anche con agevolazioni alle persone che andranno a viverci. Secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione. Devo dire che è proprio bello che venga approvato il piano regionale di sviluppo nel giorno in cui una storica infrastruttura fondamentale, non solo per la Toscana ma per l'Italia, va alla concreta operatività. Stamani avere la fresa che dal nome Iris penetra nel terreno di Firenze per il tunnel di 7 chilometri che ci darà il passante di alta velocità in qualche modo il simbolo di un lavoro che stiamo facendo. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese, alla formazione, al cambiamento necessario sia al cambiamento legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Questo è uno strumento che insieme al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dà la speranza che la Toscana possa crescere. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di rendita ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. Che questo lavoro sia un lavoro, come ho detto prima, sicuro, un lavoro degno, un lavoro che richiede anche, e questa è una norma nazionale, speriamo possa essere presto sostenuta anche da questo governo di avere un salario minimo garantito. Sono quindi diversi i settori strategici nei quali interviene questo programma regionale di sviluppo, il quale però si pone in un'ottica complessiva di rilanciare anche alcuni settori particolarmente importanti e significativi del territorio regionale. Tra questi, ad esempio, quello della cultura. La cultura vista come motore di sviluppo socio-economico di un territorio, come strumento attraverso il quale rilanciare il turismo, non a caso in questo programma troviamo un costante riferimento al progetto degli uffizi diffusi attraverso una valorizzazione del patrimonio storico-artistico, anche degli enti locali, dell'intera regione. Non mancano poi gli aspetti programmatori fondamentali collegati alla salute e collegati all'integrazione socio-sanitaria. Con riferimento in particolar modo al diritto alla salute, si deve considerare come da sempre la Regione Toscana, con il suo modello di sanità pubblica e universalistica, sia stata in grado di garantire standard di qualità e di quantità nelle prestazioni molto superiori rispetto alla media nazionale. Questa è la prospettiva nella quale si vuole collocare l'azione di governo di questa legislatura, facendo non soltanto pressione presso il governo affinché possano aversi maggiori risorse sul fondo sanitario, ma anche tenendo conto degli importanti investimenti sulla sanità territoriale che verranno attraverso le risorse del PNRR, che presto porteranno a fronteggiare nuove assunzioni, nuovi investimenti sul personale e anche una necessità di ripensare l'attuale assetto del personale nelle aziende sanitarie. La nostra battaglia vinta è quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie che sono quelle che poi determineranno le linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati, ne fanno parte in maniera integrante da ripartizione equa dei risorsi comunitari al rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici, delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Diversi giorni di discussione in aula per un piano regionale di sviluppo che arriva a metà mandato, un atto che doveva arrivare nei primi sei mesi di legislatura. Il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo all'incirca una cinquantina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della regione toscana. Parliamo di ambiente perché noi lo ripetiamo, siamo favorevoli a termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della FIPILI con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico. Abbiamo detto che non siamo favorevoli a Toscana Strade. Abbiamo presentato un progetto a cui tenevo e tenevamo particolarmente che è quello che ha accordato il Sindaco di Livorno, il Sindaco di Pisa e il Sindaco di Lucca sull'area metropolitana costiera. C'è stato risposto che le infrastrutture non stanno all'interno del piano regionale di sviluppo. Ecco, io mi chiedo che cosa, se non le infrastrutture, la strategicità, la programmazione possa stare all'interno di un piano regionale di sviluppo. Siamo contenti perché ne hanno approvati diversi. Ne hanno approvati diversi ma soprattutto perché al di là dell'emendamento approvato credo negli ultimi tre giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo due visioni di Toscana competitive e alternative. Questo mi fa piacere. Non c'è stata una discussione sterile, non è stata una discussione mai sopra le righe, mai alzando i toni, mai offensiva, mai sgradevole. Centrodestra e centrosinistra hanno mostrato due visioni differenti di regione Toscana e si sono confrontate tra loro. Personalmente, posso parlare dei miei, io ho avuto, mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale che per me è un tema importantissimo, ovvero che in maniera graduale a partire da oggi la regione Toscana ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge sulle future generazioni. Cioè quando si va a fare una legge oggi dovremo, saremo costretti a prendere anche in considerazione, a valutare l'impatto che questa legge avrà in futuro su chi oggi è poco più di un adolescente. E questo significa pensare al futuro, oltre ad aver inserito nel PRS per quanto mi riguarda il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. Poi so che altri colleghi ne hanno avuti diversi approvati, quindi è stato sicuramente un bel dibattito. L'unico neo, fatemelo dire, il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023. Un giudizio negativo però con alcune distinzioni. Anzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da due anni e mezzo in totale assenza della giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa, a maggior ragione in un momento in cui la Toscana in una fase di post-pandemia dovrebbe vivere con, diciamo, slancio anche quelle che sono le sfide del futuro, in particolare le sfide generazionali. Ecco, è inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti, ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Noi viviamo un momento difficile, un momento in cui l'inflazione morde, in cui ci sono difficoltà per le famiglie, in cui ancora non sappiamo bene il destino di alcune realtà economiche partecipate dalla regione toscana. Ecco, in questo contesto sentir parlare di una Toscana che viene definita del fare quasi in una sorta di modo quasi di snobbare il Consiglio regionale che legittimamente cerca anche di riportare un po' l'attività della giunta nell'ambito di un puntuale riferimento non solo alla programmazione, ma soprattutto a ciò che dovrà essere fatto per risolvere alcune vicende critiche. Ecco, io credo che questo denoti un atteggiamento che in qualche modo non può essere accettato. Purtroppo può non piacere avere a che fare con la dialettica del Consiglio regionale, può non piacere avere a che fare con le censure dell'opposizione, può non piacere avere a che fare con i controlli della Corte dei Conti, però questo non ci pare un modo serio di affrontare questo dibattito. Ed è tutto per questo nostro appuntamento, la prossima settimana saremo insieme per un'edizione speciale di Dentro il Consiglio, perché vi porteremo veramente dentro al Consiglio per un qualcosa di straordinario, anche per le nostre telecamere. Quindi fra sette giorni saremo ancora insieme, però vi ricordo, se volete così cercare di approfondire gli argomenti trattati anche in questa nostra puntata, vi ricordo il sito internet www.inconsiglio.it e come detto vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, Dentro il Consiglio. Grazie. Grazie.